In ogni storia che si rispetti ci vuole un antagonista, è quello di Ulisse niente poco di meno che il Dio del mare. Alle mie spalle c'è un tempio, i greci erano consapevoli del fatto che gli dèi agissero sulla vita degli uomini quotidianamente e per questo erano capaci di inventare tutta questa bellezza. Non c'è altro modo di raccontare la bellezza del divino se non ricreandola sulla terra, ma Poseidon è un Dio terribile. E non è un caso che sia proprio il Dio del mare colui che tenta di dissolvere in tutti i modi l'identità di Ulisse. Il grande viaggio dell'Odissea che tutti noi ricordiamo è il viaggio per mare, anche se è solo metà dell'Odissea. Eppure in quel labirinto di mare quello che succede a Ulisse è proprio questo, rischiare di smettere di essere Ulisse. È quello che tenta di fare Poseidone, ma non ci riuscirà perché c'è qualche cosa dentro Ulisse che resiste. Questo elemento liquido che ci vuole dissolvere, a tutti noi capita di mercanteggiare, perdere la nostra identità, smettere di essere noi stessi, ha il suo nemico principale proprio nel mare. Che cosa consentirà Ulisse di resistere? Una cosa che è ben salda nel suo cuore, come questo tempio alle mie spalle. Itaca.